Terza vittoria consecutiva per le diplomatiche. Le campionesse in carica di reazione a catena sono riuscite sia a mantenere il titolo che a portarsi a casa il Montepremi nel corso della puntata andata in onda ieri sera, domenica 1 settembre, dove sono state sfidate dalle friselle. Marusca, Veronica e Francesca, mamma, figlia e migliore amica di quest'ultima, hanno provato a conquistare lo scettro del game show di Rai 1, ma all'intesa vincente hanno avuto la peggio contro le veterane Georgia, Giulia e Jessica. Con 5 secondi di vantaggio e ben 8 parole, infatti, le tre studentesse universitarie hanno passato il turno, e sono approdate all'ultima catena con 80.000 euro, dimezzati sino ad arrivare a 20.000, e poi a 10.000 con l'acquisto del terzo elemento. A questo punto il trio si è trovato a dover indovinare la parola ponte tra «costume» e «play», che iniziava per «tr» e finiva per «o», dopo un breve consulto la scelta delle tre amiche è caduta sul termine «triangolo», risposta corretta azzeccata anche dalla stragrande maggioranza del pubblico sul web, doveppure questa volta non sono mancate le polemiche. Social scatenati contro le diplomatiche e le «catene d'asilo nido» Nonostante le diplomatiche siano alla loro terza vittoria su altrettante partite giocate a reazione a catena, il pubblico da casa non è ancora convinto della loro bravura. Sui social, e specialmente su X, dove in tantissimi ogni sera si riuniscono per commentare le gesta dei concorrenti del quiz show, in molti hanno avuto da ridire sulla preparazione delle protagoniste, come anche sulle catene scelte dagli autori, considerate fin troppo facili. Brave. Con questa catena d'asilo nido? Ma per favore, la freddezza di queste ragazze nel vincere è agghiacciante, anche stasera sono di una facilità imbarazzante. E ancora, per deficienti questa catena, parole di una facilità incredibile a queste tre, se questo è il livello attuale delle intese a cancelletto reazione a catena, è un bene che io non lo seguo più assiduamente. Capisco la voglia di provare questo gioco andando in tv, ma essendo televisione ed essendoci in palio dei soldi sarebbe meglio che giocassero squadre veramente preparate e non solo degli occasionali perché iscritti ai casting per curiosità, io non dico molto, ma almeno ripassare le. Capitali prima di partecipare a un quiz televisivo mi sembra il minimo, quest'anno sono tutti scarsi.